Qual è il primo provvedimento che varierete nel primo Consiglio dei Ministri se andrete al governo? Prima di tutto la sicurezza dei cittadini italiani, espulsione dei troppi clandestini che ci sono, arrivano i terroristi con i barconi, chiusura dei campi Rom, protezione dei confini e una legge sulla legittima difesa che permetta agli italiani di difendersi in casa loro. Dalla legge Fornero all'Europa con Berlusconi restano le differenze. In caso di vittoria come troverete la mediazione? C'è un programma comune che ha il centro prima gli italiani, prima gli italiani per le case popolari, prima gli italiani per i contributi pubblici in Italia e in Europa. Sulla legge Fornero non si discute. Azzerare una legge sbagliata, mandare in pensione la gente dopo 41 anni di lavoro finalmente che possa cominciare a fare il nonno e permettere agli italiani di 20 anni di non scappare ma di cominciare a lavorare nel nostro paese. Se il centrodestra non avrà i numeri, i 5 Stelle sono un interlocutore? No, Di Maio sta tradendo, sta cambiando idea su tutto, ha abbandonato le battaglie di Grillo, va a baciare le pantofole ai poteri forti, cambia idea sullo Ius Soli, sulle tasse, sull'immigrazione, sull'euro e sull'Europa. Chi vota Lega vota per il centrodestra, non andremo mai al governo con la sinistra, con i 5 Stelle o con nessun altro, non tradiremo. con i 5 Stelle o con i 6 Stelle o con i 6 Stelle o con i 5 Stelle o con i 6 Stelle o con i 6 Stelle.